Sono nove i nuovi positivi al coronavirus in Campania e quanto reso noto dall'unità di crisi della regione nel bollettino quotidiano. Fra questi anche un medico di famiglia operante presso il poliambulatorio ASL di Pastena. La dottoressa è risultata positiva insieme al marito a seguito dei tamponi effettuati nella serata di giovedì. Entrambi sono stati ricoverati presso l'ospedale di Scafati. Nel frattempo l'ASL ha provveduto immediatamente a ricostruire la catena dei contatti stretti, familiari e colleghi di lavoro, sottoponendoli a tampone. Tutti i tamponi effettuati sui contatti sono risultati negativi. I locali del poliambulatorio sono stati igienizzati e sanificati e le attività sono già riprese.